In questo raro momento della nostra vita mi sono trovata a fare un'esperienza nuova, a fare i corsi online. Devo dire che sono molto soddisfatta perché mi permette di far vedere velocemente e completamente tutto un processo di lavoro ai miei studenti dove posso contemporaneamente spiegare, far vedere come si può fare il lavoro e a sua volta la comunicazione, la lezione in streaming mi permette anche di rispondere alle loro domande e di commentare i loro lavori. Ho imparato tanto anch'io perché nel preparare i video, il rivedere il mio processo di lavoro mi ha fatto capire come migliorarmi sia pittoricamente che tecnologicamente. per poter comunicare la mia esperienza e quindi sono molto soddisfatta anche se è stata una prova impegnativa, ma i risultati sono già ottimi e penso che, alle volte penso che poi il mondo cambierà e saremo tutti costretti ad accettare questo aspetto di comunicazione attraverso la rete o attraverso incontri online, anche se ovviamente poi il lavoro dal vedo con le persone rimane una cosa privilegiata e quindi nell'attesa di che questo possa risuccedere sono qui a dipingere in diretta per i miei studenti e a poter spiegare piccoli dettagli come che colore è quello eccetera. Grazie della vostra visione e alla prossima!